I peli nelle orecchie In me fermenta il polline degli anni. Sotto la mia scorza si racchiudono età ed esperienze. Si spengono i giorni e le stagioni, mentre germogliano i peli nelle orecchie. Il tempo mi ha maturato spietatamente. Ma è possibile che sia nel tempo tutta la mia vita? Commento No, solo la vita fisica è nel tempo. La tua vera vita è nella coscienza.